Il cilindro e questo abito meraviglioso, pensate, io sono con Gaio il calzolaio, uno degli ultimi dieci lustra scarpe rimasti in Europa. Ben arrivato. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare l'ente fiera che mi ha dato l'opportunità da cinque anni presenziare il mio mestiere di lustra scarpe. È un mestiere fantastico, è un mestiere che si è proprio perso nella via, nel cammino della storia. Lei lo porta avanti con un'energia incredibile ed ha avuto l'onore di essere seduto accanto al nostro ministro Lollo Brigida proprio mentre lussava le scarpe a quelli che sono i cavalieri. Certo, sì, sì, è stato un grande onore ieri averlo vicino sul mio, vicino al mio trono mentre gli insegnavo come si giucci dalle scarpe. È stato veramente entusiasta e un'altra cosa molto importante, a dicembre sarò a, adesso in questo momento non mi ricordo più, sarò a Roma per presenziare un evento del ministro Lollo Brigida. A circo massimo, a dicembre, un onore veramente. Da quanti anni fa questa professione? Allora, io sono un calzolaio, lo faccio da quando avevo otto anni, dunque ne ho sessanta adesso, ma la professione dell'ustra scarpe è dodici anni fa. Sono vicepresidente di Europea Chouchain di Bruxelles, dove l'anno scorso ho vinto la spazzola dorata come migliore l'ustra scarpe. È incredibile, facciamolo vedere, non so se le nostre telecame possono inquadrare. Questa è una vittoria di una professione che sta piano piano scemando. In dieci in Europa siete pochissimi. Sì, siamo in pochi perché è un mestiere ormai che sta scomparendo. Anzi, vorrei ringraziare Marcello Faragi, mio presidente di Bruxelles. Grazie Marcello intanto. Come le è nata questa passione? Da fare il calzolaio all'idea proprio di diventare un lustra scarpe? Guarda, è nata dodici anni fa, ero all'ipodromo di Milano, mentre avevo un piccolo banchetto con le mie scarpe. Mi sono avvicinate due amazzone dell'associazione AIMA, non so di che paese è, e gli ho detto che l'unica cosa che posso farmi è pulirmi le scarpe. Giustamente prima della competizione bisogna sempre essere lucidi, dalla testa ai piedi. Hanno preso spunto di quello che gli ho detto, sono venute lì e ho cominciato a lucidargli le scarpe, ma avevo solamente una spazzola, non avevo altro. Ho visto una marea di persone che guardava quello che stavo facendo, era una semplice lucidatura, non stavo facendo altre. Ho visto proprio veramente tanta gente. Quando sono andato a casa, sono andato su internet e ho digitato shusha, lustra scarpe, e lì si è aperto un mondo. dove praticamente in America ce ne sono ancora, nelle grandi alberghi, dappertutto insomma. E da lì ho fatto fare un trono da mio cugino Francesco Racaniello, in ferro battuto, dove io vado in tutta Europa a fare questi servizi di lustra scarpe. Porto lucido dappertutto insomma. Porta la luce dappertutto. Quindi lei la chiamano proprio in quali occasioni. Ecco, dov'è che lei è chiamato? Beh, matrimoni di lusso e eventi come, non so, avvocati, notai, ambienti prestigiosi o no anche, o matrimoni. Ho fatto un matrimonio l'anno scorso, sono stato convocato in Canada, a Vancouver, a presenziare l'Italia, Italia Day, a Vancouver, due anni fa, e mi sto divertendo. Sto girando il mondo così, è bello. Vedo che la gente piace molto questa cosa. Beh, io guardi, l'ho conosciuta e non vi nego, cari amici di ACU TV, che ho conosciuto Gaio il calzolaio pochi secondi fa, ma lei ha una luce negli occhi, una passione e una grinta nel parlare di questo lavoro che probabilmente è questo il motivo per il quale fa innamorare. È passione, mi piace il mio lavoro come calzolaio e questo mi dà molto molto soddisfazione, perché vedo proprio le persone che saigono sul trono, vedono che proprio ammirano questa cosa qua. E poi, come dico sempre, avere la scarpa lucida è un bel biglietto da visita. Beh sì, è vero, è vero. Se ci pensiamo bene e ognuno di noi prende la propria scarpa prima di uscire e insomma dà una lucidata. Ecco, ci spieghi proprio le fasi della lucidatura. Come si lucida una scarpa? Cosa serve per lucidarla per bene? Vorrei proprio un insegnamento? Una cosa molto semplice. Allora ci vuole una base, un detergente, si toglie lo sporco sulla scarpa, poi va dato una mano di colore nero, dipende il colore della scarpa, e poi va messo un altro tipo di cera, pasta dura, per dare lucentezza. E poi ci vuole tanta passione e gomito, perché più si passa diciamo lo straccio e più viene lucida la scarpa. Ecco, il famoso olio di gomito, giusto per rimanere in tema. Noi la ringraziamo Gaio, è stato veramente... Grazie a lei, sono molto contento. Veramente grazie a tutto l'ente fiera, veramente non ho parole per ringraziarvi. Prima di andare via però, ogni ospite di questa quattro giorni di Fiera Cavalli ci ha lasciato una firma con o senza dedica, scelga lei. Perfetto, va bene. Ed ecco la firma di Gaio Il Calzolaio, una di quelle professioni che, credetemi, insomma, non esistono veramente più. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti.